Terzo forum dei commercialisti ed esperti contabili, siamo con Marco Kuckel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti e gli chiediamo come fare per trattenere i nostri giovani in Italia considerando che paghiamo gli studi per formarli e poi vanno a lavorare all'estero Sicuramente questo è un grande problema, il fatto che i giovani tentano di andare all'estero Noi come professione abbiamo molte potenzialità per trattenere i giovani nel nostro paese Sicuramente la nostra professione è ancora una professione molto appetibile, bisogna dare la giusta comunicazione affinché i giovani possano ancora trovare stimoli per svolgere una professione sicuramente complicata che sia andata a complicare nel tempo ma che è veramente anche di soddisfazione per seguire le imprese nella crescita, dare i consigli giusti per affrontare un mondo quello fiscale e commerciale molto difficile nel nostro paese Io credo che per mantenere i giovani, tra l'altro come associazione nazionale commercialisti facciamo anche degli interventi in fiere di indirizzo dei giovani allo studio proprio per invogliarli e avvicinarsi alla nostra professione Ci sono ambiti al di là di quelli caratteristici, da 139 alla nostra legge istitutiva di attività professionali anche altri ambiti che stanno emergendo e possono essere collaterali ma di interesse, di sviluppo e con le nostre competenze che acquisiamo sia nel percorso formativo che nella nostra attività professionale possono essere effettivamente ampliate su tutti, privacy, antiriciclaggio ma anche analisi di gestione delle imprese quindi creare interesse, creare nuove fette di mercato, questo grazie anche volendo a specializzazione ad hoc su queste attività per invogliare, per creare nuovi interessi alla professione che purtroppo ahimè in questi ultimi anni invece sta avendo una flessione, una flessione forse anche giustificata dal fatto che il messaggio che viene dato che noi siamo esclusivamente, ci occupiamo soltanto del fisco, non siamo molto amati tra l'altro il messaggio spesso che viene dato è che il commercialista è a fianco degli evasori assolutamente, non rimandiamo al mittente questa affermazione i nostri 118 mila iscritti sono centri di legalità, lo diciamo fermamente e siamo a fianco delle imprese e siamo per il rispetto delle regole rispetto alle regole fiscali naturalmente auspichiamo anche un fisco giusto che possa trovare anche, possa essere come leva di rilancio dell'economia di questo paese con le giuste riforme che secondo noi sono necessarie in questo periodo Grazie